Donne che si supportano a vicenda nella lotta al cancro al seno è lo spirito che anima l'associazione Cresce nel Rosa, gruppo che nasce dalla volontà del chirurgo senologo Antonio Santoriello che ha deciso di dedicare la propria esperienza e professionalità alle donne per creare una rete di supporto non solo informativo ed assistenziale ma anche psicologico e riabilitativo dove si rileva determinante l'ascolto e la condivisione delle proprie esperienze di malattia. Cresce nel Rosa fa seguito a circa un trentennio di associazionismo che il sottoscritto ha cercato di sviluppare nel corso degli ultimi anni come chirurgo senologo cercando di cooptare soprattutto le principali indagate in questo caso le donne che sono colpite da questa patologia in modo preponderante e quindi abbiamo cercato di far scattare in ognuna di loro un meccanismo di rilancio di resistenza alla malattia e di superamento quindi un messaggio di positività che dobbiamo trasmettere e debbono trasmettere le donne a tutte le altre donne dovranno affrontare questo problema e quindi loro stesse sono scensi in campo nel 2018 come un gruppo autonomo spontaneo per raccontarsi. Facciamo anche un esempio dei servizi che mette a disposizione questa associazione appunto per queste donne che devono affrontare questo difficile percorso. Certamente il primo input che noi daremo sarà quello di una consulenza telefonica. qualsiasi donna che pubblicizzeremo al massimo logicamente, qualsiasi donna che impatta con questa patologia o anche con il sospetto, attenzione, di questa patologia verrà accompagnata in un percorso che prevede una diagnosi precoce che può essere esplicitata attraverso un percorso di screening o di diciamo di prevenzione volontaria. Ecco attenzione ci tengo molto a sottolineare noi abbiamo un programma di screening dell'ASL che è pienamente efficiente. Donne, il primo messaggio rispondete ai programmi di screening, andate a fare la mammografia quando vi contatta l'ASL. Se avete un sospetto di qualcosa che presenta nella vostra mammella allora potete chiamare al nostro numero VED, noi vi daremo praticamente tutte le possibilità in zona. Ecco attenzione esiste una rete oncologica campana, forse pochi lo sanno, sono 22 centri di senologia in campana e 22 che saranno pienamente validati a fine anno perché alcuni sono in osservazione e allora noi daremo dei punti di riferimento precisi, cioè non bisogna andare alla Carlona, non tutti possono fare tutto, non si può fare tutto dappertutto, ci sono dei centri in cui c'è un percorso ottimizzato in cui la qualità e la quantità rispecchiano le norme di legge e quindi sarete accompagnati in questo percorso verso le strutture dedicate. Noi ci stiamo proprio costituendo ufficialmente, già adesso c'è una pagina Facebook, basta mettere un link di piace alla pagina Facebook, siamo presenti su Instagram, sarà fornito un numero verde a cui telefonare, un numero verde è comunque un numero dedicato che servirà per la consultazione per risolvere qualsiasi tipo di problemi. Abbiamo messo a disposizione un pool di esperti, quindi non solo professionisti ma anche avvocati, medici legali, ci sarà un pool di professionisti che vi assisterà a 360 gradi gratuitamente, quindi senza alcun tipo di parcello, senza alcun tipo di onere finanziario. Tutte le donne che si rivolgeranno al nostro gruppo saranno accompagnate in questo percorso.